Abbiamo un gameplay da Trickster di 5 minuti, ovviamente marchiato IGN, grazie IGN per portarci delle robe, e come vi ho scritto sulle storie su Instagram, questo gameplay da qualche immagine che ho visto mi è piaciuto un botto, perché si è visto che hanno proprio migliorato quello di cui discutevamo l'altra volta in live, cioè ovvero delle esposizioni di come tu mostri la roba al pubblico, ed è una figata. Perché in questo gameplay qua ho visto innanzitutto, molta meno telecamera che se smolegola, ho visto del gameplay che ti fa capire che cazzo stai andando a fa' e compagnia, ma vediamo. Questo è il nostro caro Trickster, che è la classe proprio nuova, nuova, nuova. Se vedete questo gameplay, proprio anche esteticamente quanto è più pulito, cioè dico di bitrate, di risoluzione, proprio un mero video, cioè anche quando ha girato la visuale che non è esploso tutto quanto, ho detto ok, allora stanno fixando per bene le cose. Vabbè ma non è che è... Signorino, cioè grazie al cazzo che fai niente, se tu prendi una sedia e la sbatti in testo un mostro, cazzo e cazzo, se meni con l'incenziere mi fai un cazzo, è grazie. Pure se tu prendevi il bastone del mago, cominciavi a immazzuare, non ci fai un cazzo. Sì esatto, che dovrebbe fare, non ho capito. Neanche di ci fosse un mazzafruso, no? Ecco, magari se per l'agro è figa come cosa. Oh, questa è una cosa figa, vuoi farci delle trappolozze, vuoi creare delle sorte di copie. Che viene percepita come roba fisica. Cioè tu puoi far lanciare di sotto dei dirupi le persone. Figa come roba. Che cos'è il trickster davvero? Io probabilmente mi ci butterò un po' dentro. Sappiate che le proveremo un po' tutte le vocazioni quando giochiamo. Il fatto è che sarà una di quelle robe che va soltanto sul protagonista del trickster, quindi è un po' un peccato. Però. Oh, puoi fare una proiezione a strada di te stesso per l'esplorazione per andare avanti a scoperta. Ah, ci puoi piazzare anche il clone. Però è una di quelle solite classi estremamente da support. Cioè se tu scegli il trickster come classe, fai la via del mago di Dragon's Dogma 1. Poi per carità è, quello che stanno a far vedere qua sono vocazioni, ripetiamo, di rango 0. Cioè questa è roba che lui c'ha fin dall'inizio, è standard. E come al solito qua si dimostra il fatto che le persone molte volte non sanno di che cazzo si sta parlando. Perché non sanno di che cazzo si sta parlando? Perché questo ne ha parlato come se lui avesse, eh, metto il muro per terra, metto il muro dritto, metto la copia. No, esatto, poi tocca vedere ai livelli alti che cazzo sa fare sto coso. Magari sa soffocare, sa infilarsi nella testa delle persone, ti fa guadagnare alleati. Cioè dipende, questa cosa dalle proiezioni astrali, magari mi immagino tu che ti infili dentro una persona e magari puoi controllare i nemici. Cioè, ok, all'inizio metti i muri, ma grazie al cazzo pure il mago all'inizio cura e spara un braccio. Il guerriero attira l'attenzione o te dirà una botta. Toccavete poi come se va a sviluppare, perché se poi diventa soltanto questo, diventa uno sfrantumamento di coglioni. Perché diventa uno sfrantumamento di coglioni, il metto i muretti e attiverlo le persone da una parte. Dall'altra, se diventa un po' più strutturato, diventa figo il attirare un mostro vicino a un pendio per faccelo cadere, usare la proiezione per esplorare, il fare le trappolozze. Si assume sì un atteggiamento molto più tattico, Lilith. Si, vabbè. Però vedi, è sempre quella la cosa. Lui sta a mostrare questo perché ti danno queste tre abilità e tu le usi in modo creativo. Però poi ci sarà di più, credo. Paverissima sprint è diventato di una donna. Il trickster non era una vocazione facile da capire in solo un'ora. Mi è stato un po' di tempo per capire completamente l'agro sistema, evitando di prendere troppo agro e non avere... Sì, però vedi, perché gliel'ha fatto anche a tutorial il gioco sopra. Gli ha detto, oh, dai i comandi, se te stanno a massuola dieci goblin, chiedi aiuto, figa. Va bene. Ma non è underpowered, dio madonna da Dai Lama. Ma perché dovete dir ste cose? Che cazzo vuol dire in un gioco PvE underpowered, dio madonna? Peccato, avrei voluto un po' più di gameplay, onestamente. Ha fatto le solite quattro scene del cazzo, ma rimane sempre il fatto è che purtroppo... Io allora, per quanto è migliorato da una parte, sotto il punto di vista della comunicazione, dall'altra no. Cioè io, dovessi mostrare del gameplay di Dragon's Dogma, lo mostro di ranghi alti. Non mi devi far vedere per forza i mostri, boss. Metti 3-4 vocazioni, mettimi le che sono a rango 3, quando cominci a sbloccare le prime cose. Perché ovvio che se tu dai una roba di rango 0, un saffancazzo, sarà appena spawnato quel Cristo di Dio. Questa classe mi tira a mondo, sembra molto utile, in molte situazioni ovviamente devo avere il mio fedele che aveva... Eh sì, devi... è molto più sul support ovviamente Lilith. Devi averci una pedina sicuramente che se struttura verso il lato guardiano, o che se gestisce il resto dell'aggro. La sua mentalità PvP, MMO, che non c'ha un senso. Sì no, è underpowered. Dio madonna, buffa le difese, buffa l'attacco, fa tutti gli attacchi a overi, incoglionisce le persone, mette i muri per schermatte le persone. E compagnia, underpowered. E allora vaffa culo, io fossi in un party tipo di indiesco? No, tu sei underpowered. E vabbè, allora il buffa l'attacco e la difesa non tu lo pigli, fate shottare al drago. Ma che cazzo vuol dire? Cioè, è come di che è un MMO. E Lilith è una merda perché non è quello che va a menare le mani contro il boss. End support, Dio Cristo. L'unica pecca che uno può magari fargli proprio a livello di critica è il fatto che ste classi particolari non saranno disponibili per le pedine. Perché io una pedina bella, strutturata col trickster, ce l'avrei fatta. L'unico fatto è che capisco che una pedina che deve posizionare in modo preciso muri, esche, ho paura. O diventa un mostro, cioè che ti fa frame perfect i muri davanti e compagnia. Perché se hai visto anche in Dragon's Dogma 2, uno e le pedine, quando hanno delle abilità da support passive o di recupero, le fanno sempre frame perfect. C'è il guerriero che sblocca caduta morbida per riprendersi da uno sbalzo, qualcuno lo colpisce e lo fa volare via. Non lo sbaglia mai, perché giustamente Enya è perfetta. Sono migliorati un cicinino nel mostrare le proprie cose, ma ancora non hanno capito come accattivasse le persone. Cioè mettendo un cazzo di boh gameplay da guerriero con lo spadone a due mani che carica gli attacchi di Cristo per shottare i draghi, che ti fa vedere qualche roba particolare. Qualche anche peculiarità. E quella è la cosa che secondo me sbaglio. Tu mi devi far vedere qualche peculiarità, perché se diventa quasi hack and slash, come un po' tutto. Io ti faccio, vabbè, è un gioco come l'art, dove c'è stanno i furri baffati e semena nei mani e compagnia. Però se tu mi vai a mostrare quelle dinamiche un po' particolari, i perri perfetti, le frecce quelle un po' così, eh, magari la gente si intriga. Cioè se tu mi fai vedere quella parte proprio da videogame molto arcade, è meglio. Cioè se tu mi fai vedere quella parte che c'è, 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 che c'è.